Però l'impressione che mi ha dato è di una donna che crede fortemente... Armando smetti, stai rompendo le scatole, te lo dico proprio con chiarezza, basta. C'è una ragazza che piange e tu continui a dire a Tina e Gianni con chi va lei? Non va con nessuno, non sta neanche con te, basta. Ok? E' una donna che crede fortemente nell'amicizia e nella famiglia, sicuramente verrà... Ma come fai con una donna con cui sei stato a fregartene a tal punto quando lì che piange, insinuando che ha incontri occasionali con un uomo al di fuori di qua? Quando sai che è una mamma, tu te ne freghi e ci cammini sopra. Ma non è così. Dopo che ci uscivi e dopo che lei ha pianto per te. Maria, ma non è così. Armando, sei un uomo. Sì, Maria, ma anche io ho ricevuto tutte queste cose dopo che ci uscite. Ma che hai ricevuto, Armando? Hai visto solo donne che hanno pianto per te? E lei è l'ennesima. Non piange. Sta girando pagina, sta andando all'altra parte e tu tomma ancora. Maria, tutte... E l'amico dell'amico 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 dell'amico. Maria, ma è lei che hai innescato. Sai che lavoro fa lei, sai con chi va quella, sai con chi va quell'altra. Ma mettiti al posto di Lucia. Ti metti là al posto di Lucia e fai la trasmissione. Armando, non se ne può più.